Ciao a tutti, bentornati, benvenuti e bentrovati sul mio canale Disordine Creativo, un canale di creatività disorganizzata che è partito da un mist di video di uncinetto e maglia per arrivare adesso alla Cosmesi e passato per dei tutorial, quindi creatività a 360 gradi e quindi siamo qui oggi perché volevo farvi vedere degli acquisti che ho fatto su Amazon, degli acquisti beauty e degli acquisti di accessori che mi aiutano nella mia skin care. Siamo ancora nella location vecchia, grazie a Elisabetta R che me l'ha suggerito nel video scorso, non mi ricordavo più come si dicesse, che penso sempre di sapere che cosa dire di essere pronta per quando mi trovo davanti alla telecamera, mi impappino come un oca, strano perché io sono una persona a cui non mancano le parole, suona il telefono, ritorno dopo. Rieccoci, è suonato il telefono, era la pubblicità del folletto che ho già e quindi non mi interessa. Allora vi stavo dicendo, volevo farvi vedere brevemente degli acquisti che ho fatto su Amazon e la location come vi dicevo è ancora questa perché sono praticamente in casa da sola, nel senso che Lucia è andata in gita con la scuola, il mattia è fuori e Paolo sta facendo un corso per l'università, quindi bellissimo, ho poco tempo ma cerchiamo di farlo fruttare bene. Questi acquisti mi sono venuti in mente guardando i video di Sara Cosmesi e di Giulia Blum che ringrazio e che saluto, loro sono due ragazze che ho scoperto su YouTube che fanno dei video di Cosmesi, di prodotti finiti, di me, alcuna la Sara è un'esperta e gli piacciono tantissimo i sieri per il viso, insomma sono due belle persone in tutti i sensi che seguo con piacere e ogni volta che purtroppo, tra virgolette, io seguo i video di queste amiche che propongono articoli che mi interessano poi dopo ci scappa l'acquisto, complice anche il gruppo missionario parrucchiale per il quale dovevo comprare delle articoli che ci servivano per preparare poi la festa della mamma e quindi e lì cosa fai? Metticeli dentro anche tu nel carrello. E quindi ho detto va bene, prendiamo la linea alla vitamina C, va bene, per prima cosa ho comprato? L'acqua micellare alla vitamina C, come io ho già detto in altri video, non uso l'acqua micellare per struccarmi, preferisco sempre fare la dopa a detersione, sia perché avendo la pelle grassa mi dà l'impressione di struccarmi meglio e di avere la pelle sicuramente più pulita, ma perché principalmente è proprio una coccola, mi piace tantissimo proprio con il burro e poi con la mousse, così dedicarmi del tempo in più, mi dà l'impressione invece che con l'acqua micellare faccio troppo alla svelta e quindi alla sera ho bisogno proprio di una coccola in più. Questa acqua micellare, io tutti questi prodotti li ho comprati su Amazon perché purtroppo sono andata a vedere al Tigota che ho vicino a casa e non ci sono, non sono ancora arrivati e non ho acqua e sapone vicino e quindi ho approfittato dell'acquisto che dovevo fare e ci ho aggiunto anche questi prodotti. Quindi l'acqua micellare ha la vitamina C che per pelli spente non uniformi, strucca, deterge, illumina e uniforma senza risciacquo, ma ormai lo sappiamo per tutti che l'acqua micellare va risciacquata, ha un profumo delicatissimo, buono, di quasi di fiori, di camomilla ma anche di sole, di quelle creme da spiaggia, buono, mi piace, mi piace un sacco e quindi questa va nella scorta delle acque micellare da poter usare. Poi, ovviamente, ma potevo farmi rimancare, ah scusate non vi ho detto cosa costa, allora l'acqua micellare questa tutto in uno skin active con vitamina C 4 e 99, sono 400 ml, io non ricordo, mi pare che fossero scontate ma veramente di pochissimo, comunque poi nell'infobox ho già preparato tutta la scheda con tutti i link che vi mandano all'articolo, non è un link affiliato, non so neanche cosa voglia dire, non ci voglio neanche pensare al fatto delle affiliazioni, sono proprio i link dove io vado su Amazon e condivido con voi tranquillamente. Ecco, allora, queste sapete che io sono una fanatica delle maschere, queste non le ho ancora provate perché volevo farvele vedere, ma le proverò, è una confezione di 5 maschere e sono quelle da 5 minuti, non le avevo mai provate queste qua da 5 minuti, di solito faccio quelle di un quarto d'ora ma le lascio su anche di più se comunque il tessuto è ancora bello umido. Allora, vitamina C, maschera in tessuto, ampolla, antifatica, con estratto di ananas e vitamina C, queste sicuramente le voglio provare perché poi le maschere della Garnier al momento sono sempre le mie preferite su tutte. Questa è la confezione da 5, allora, la confezione da 5, dove l'ho messa? Un po' l'antifatica, eccole qua, un po' l'antifatica, la confezione da 5, 13 e 70, quindi non pochissimo, penso sia il prezzo che probabilmente troverei anche al Tigotà, ma sulle maschere della Garnier. Non so le esistere. L'altra, invece, una l'ho fatta perché la volevo provare, la volevo provare, ci sono gli occhiali che specchiano, ce ne ho un sacco di sole oggi. E anche questa è la confezione da 5, io ne ho solo 4 perché una l'ho già usata, ed eccola qua, ed è Garnier maschera in tessuto, Skin Active Hydra Bomb, che sono fantastiche, idratante, illuminante con vitamina C, acido ialuronico per pelli spente e non uniforme, confezione da 5, 8 e 99. Allora, io questa l'ho provata. Qui dice, infusa con un flacone di siero. Allora, l'avevo forse già detto, quelle che ho fatto vedere da finite, io non so se ci sia dentro un siero oppure no, comunque quello che avanza è veramente, veramente tantissimo. È super, super, super imbibita, ha un profumo molto fresco di agrumi, ma non soltanto di agrumi, però fresco, energico, solare, estivo, bellissima, veramente, veramente bellissima questa l'ho già provata e mi è piaciuta, mi è piaciuta proprio tanto. Poi concludiamo con la vitamina C e ho provato, cioè ho comprato perché non ho ancora provato, il siero alla vitamina C più niacinamide più acido salicilico con il 3% di vitamina C, niacinamide e acido salicilico. Illuminante, schiarente qui, dice che in soli 6 giorni vi aiuta a far andare via le macchie, questo non lo so, io le macchie fortunatamente non ne ho. Lo apro perché tanto sto finendo quello della vitamina C di Balea che mi piace tantissimo e poi inserisco subito questo. Oh che profumo meraviglioso di campi verdi con i fiori, che meraviglia! Vediamolo sul dorso della mano. Oh là là! Oh! Che meraviglia! mamma, che profumo! Buonissimo! Molto 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 idratante, buono buono buono, ma si asciuga velocemente, non risulta neanche più bagnato. Ottimo, questo poi lo metteremo subito subito in funzione. Lella, questo, Lella è la mia collega ed è una mia amica e in questi giorni stiamo facendo acquisti selvaggi per tirarci sul morale perché ormai siamo donne di mezza l'età e quindi ci rallegriamo facendo spese. Poi, come ultimo prodotto di skin care o comunque beauty, ho voluto prendere anche questa che è acqua micellare illuminante sempre della Garnier Skin Active, acqua di rose. Pelle spenta e sensibile, strucca sempre, deterge, illumina e senza risciacco e io questa la uso principalmente alla mattina per rinfrescarmi il viso e poi faccio la detersione schiumosa. Non mi strucco mai con questi ma mi piace comunque che siano sensibili perché altrimenti mi bruciano gli occhi. Questo ha un profumo... un profumo di rosa ma anche un profumo leggermente agrumato di limone. Vediamo se è vero. Ah sì, limonene parfum, fragranza, quindi ci ho azzeccato. Buona, buona, buona. Ora, questa costa sempre... non vi ho detto i prezzi, mamma mia, sono pessima. Questa sempre 4,99, il siero 7,65 questo era scontato di parecchio se non ricordo male perché mi pare fosse sui 13 o 14 quindi se non è al 50% quasi e per il resto invece vi ho detto tutto, le maschere, quelle da... quell'estrato di ananas, le ampolle 13 e 75 maschere mentre le altre, le idra bomb, la confezione da 5, 8 e 99. Va bene, avrei finito questo video ma siccome ho anche altri articoli che ho comprato su Amazon e ho detto prendiamo l'occasione e facciamo vedere tutto in una volta sola. Sono degli articoli che io uso per la skin care quindi per detergermi, per rimuovere il trucco, per fare un massaggio mentre detergo, mi sono piaciuti e li voglio così molto tranquillamente condividere con voi. Allora, la prima cosa che ho comprato, siccome eravamo in fase di maschere con la Lucia e quindi io ogni volta che devo lavarmi la faccia, io non mi sciacquo mai la faccia come un cristiano, vero, come si dice, come si diceva una volta, no? Ma fa come un cristiano. Ecco, io perché poi mettendomi l'acqua sul viso, cioè praticamente mi si allaga completamente il bagno, mi bagno tutte le maniche, ditemi che succede anche a voi, ditemi che succede anche a voi perché sennò mi sento veramente una deficiente e veramente una donna di mezza età. E allora, per ovviare a questa cosa che ogni volta poi mi si allagava il bagno, cosa ho pensato? Ma se io mi risciacquo comunque tolgo il grosso della maschera con delle spugnette, forse faccio meno danni e è anche più piacevole. E quindi ho trovato queste spugnettine carine, carine, carine. Vi ricordate per quelle vecchie della mia età? Sono delle spugnettine simili come modo di confezionamento a quelle che regalavano una volta con i prodotti della Stenum. Magari le regalano ancora, io tantissimo che non compro prodotti di Stenum. Però c'erano queste spugnettine carine che messe sotto l'acqua per i bambini era carinissimo perché da una spugnettina così diventava una spugna grossa così. Gira che ti rigira su Amazon le ho cercate, mi sono capitate mentre stavo cercando dei prodotti che aiutassero per la pulizia e le ho trovate. E allora questa adesso è secca, allora sono così, poi bagnate, adesso comunque è secca, però bagnate viene rotonda, è veramente bella grandina e sono morbidissime, morbidissime, puliscono, detergono benissimo. Io la uso sia per le maschere che per i burri struccanti, favolose, favolose. Le ho trovate in confezioni da 60 pezzi, quindi sto regalando spugnettine in ogni dove, cioè c'era la Lucia, la Lucia se ne è presa un po', l'amica della Lucia ha compiuto gli anni, le ne abbiamo regalate tre insieme a una maschera e un'altra cosa, quindi ce le abbiamo qui come piccolo dono, insieme a qualcosa di trucco e noi le stiamo regalando, però 60 sono tantissime, poi francamente io è quasi più di un mese e mezzo che la uso e non si rovina e non succede niente. E queste sono 60 pezzi di spugnettine in make-up, spugna trucco, compressa, pulizia del viso e 5 colori, ce ne sono di 5 colori, ci sono gialle, rosa, verdi, viola e azzurre, se non ricordo male. Sono proprio carinissime, hanno di quei colori molto molto carini e costano 16,99€ la confezione da 60 pezzi e queste le abbiamo prese e le stiamo usando e ci stiamo trovando benissimo. Poi ho comprato anche dei pannetti, perché quando fa freddo con l'acqua bella tiepida io mi faccio un lieve impacco e poi quindi anche con questa alterno sia questo pannetto che le spugnettine per togliere il trucco, per sciacquare per bene, ma proprio quando faceva freddo veramente quest'inverno io le ho usate tantissimo queste, adesso magari prediligo un po' di più le spugnette perché con l'acqua tiepida poi lo si mette sul viso ed è proprio una sensazione di benessere, di coccola che poi mi aiuta a struccare, però insomma era una cosa piacevole anche questa. Queste le ho lavate e le ho rilavate a 60 gradi ma anche a 40 in lavatrice rimangono sempre morbidissime, sono comodissime, sono anche abbastanza grandi come vedete io ci sta quasi tutto il mio facciotto, quindi direi che sono più che dignitose. Le ho comprate, sono in confezione da 5, panno struccante lavabile, dischetti struccanti, asciugamano detergente in confezione da 5, 9,90€, quindi sono praticamente 10€, 2€ al pannetto ma sono proprio morbide. Allora in una parte c'è, non so se lo vedete, diciamo il pelo, ecco così un po' più lungo e dall'altra parte c'è invece un po' più corto, sembra quasi un vellutino molto 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 comodi, poi si buttano in lavatrice quindi sono comodissime. Ma non contenta, visto che ho cominciato anche a prendermi cura del mio corpo, volevo un guanto esfoliante, ma non troppo esfoliante, io ero abituata a di guanti che tante volte ci regano oppure che si trovano di crine, ma non mi piace, cioè avendo anche il capillare sulle gambe sinceramente alcune volte mi veniva proprio il livido quando andavo a pulire per bene. E allora ho cercato sempre su Amazon, ho visto che le valutazioni di questo erano più che ottime e adesso tra l'altro la confezione non ce l'ho più perché l'ho comprato molto prima di pensare di poter fare dei video sulle mie passioni della cosmesi. Sono due guantini così, uno l'ho tenuto io e uno l'ha tenuto Lucia, anche questo si lava tranquillamente in lavatrice, ma francamente una volta che si fa la doccia rimane lo shampoo si sciacqua, cioè rimane il bagnosco ma si sciacqua ed è subito pulito. La confezione contiene anche due ventose carine per appenderle nel box della doccia ed è molto comodo perché poi comunque asciuga molto velocemente. Mi sono trovata molto bene perché fa un'esfoliazione molto molto accurata, se vogliamo non saprei come definirla, non aggressiva ma profonda nel senso che quando io lo uso adesso vi racconterò anche una chicca della mia esfoliazione non so se no sicuramente voi non la farete così perché voi siete tutti bravi e sicuramente molto più esperti di me ma io mi trovo meglio a farla al contrario. Vabbè dopo ve lo racconto e quindi questo o lo passate tranquillamente, lo usate come se fosse una spugna lavante con il bagno schiuma e il bagno doccia e mi passate ma senza strofinare qui di tanto e io lo uso anche con gli scrub corpo, non ne metto tantissimi perché comunque già il guanto ha questa azione esfoliante però devo dire che mi sto trovando bene. Allora io ho provato a fare l'esfoliazione come tutti consigliano e come tutti presumo facciano, quindi doccia, detergente, ultimo passaggio della doccia è l'esfoliazione. Ma francamente io ho dei bagno schiuma che hanno dei profumi buonissimi e se facevo questo passaggio il profumo del bagno schiuma sulla pelle non rimaneva e mi girano anche un po' le valle visto che sono lì a ricercare il profumo nel bagno doccia e nei detergenti e allora ho detto vabbè facciamo una prova. Doccia, entro in doccia, scrub subito, delicato o solo con il guanto o con una crema scrub o anche un detergente scrub e come ultimo passaggio il mio bagno schiuma del momento profumato e devo dire che così mi piace, mi sembra, a parte che il profumo mi rimane del bagno schiuma ovviamente mi rimane di più sulla pelle e questa è una cosa che mi piace, ma mi sembra anche che la pelle mi rimanga più morbida, non lo so, questa è una mia impressione. Comunque io adesso continuo a farlo così perché mi piace e comunque il risultato dello scrub c'è, chiaramente la crema poi quando la metto si assorbe sicuramente molto meglio, la pelle è molto più liscia, è molto più soda e quindi continuerò a farlo alla maniera dell'idea, anche se magari non è corretto. Poi la cosa più carina ve la lascio per la fine, maschere e capelli io li ho corti, ieri tra l'altro ho rifatto il colore che sta cercando di diventare sempre più grigio perché mi piace e sto cercando di far crescere anche un po', vediamo se resisto. Maschere dei capelli, Lucia ha i capelli tanti 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 e lunghi, morbidi, molto ondulati, ricciolosi e quindi quando fa la maschera dei capelli poi dopo gocciala sempre qualche cosa, allora lo so che è plastica, ogni tanto c'è comunque la riutilizzo nel senso che la sciacqua e la riutilizzo e ho preso queste cuffiettine che sono quelle che si trovano quando si va negli alberghi o nei bed and breakfast che si trovano negli omaggi del bagno dove c'è la doccia insomma e quindi queste le ho comprate, per Lucia è veramente molto comodo, io poi tante volte appunto la risciacquo e la riutilizzo e queste sono vendute in confezioni da 100 pezzi quindi anche qua sicuramente le lascerò in eredità ai miei nipoti e se avrò dei nipoti e costano 9,97 euro ma la cosa più carina che ho scoperto e che non conoscevo fino a quando non ho cominciato a guardare i vari video di bellezza, di beauty, di skin care era forse uno dei primissimi video che guardavo in generale di questa tipologia e sono approdata sul canale di Marina Rushka Beauty che mi piace tantissimo, che è una bellissima persona bravissima, molto competente, fa sempre dei video molto molto interessanti che per me che sono digiunati di queste cose oltre al bello del prodotto è anche carino sapere e venire magari a conoscenza da dei video di come alcuni prodotti agiscono insieme di come meglio utilizzarli, che cosa ha dato alla pelle grassa insomma mi piacciono molto i suoi contenuti davvero davvero tanto e lei, ero approdata in una skin care che stava facendo ma non era in diretta ma aveva fatto una skin care in diretta io poi mi ero andata a guardare il video e parlava di questa spugna con Jack, con Jack io francamente non l'ho proprio mai sentita poi sono andata a rivedermi il video e avevo capito proprio bene quindi mi sono fatta così un po' di ricerca su internet e ho scoperto che questa cosina carina carina guardate proprio la faccia, nasconde la mia faccia è questa spugna con Jack è una spugna che viene ricavata da una pianta che è simile alla patata è una pianta asiatica che cresce ad alta quota dove l'aria è molto pura ed è ricca di minerali da questa pianta viene ricavata appunto questa spugna che è vegetale al 100% completamente biodegradabile e può essere utilizzata per detergersi il viso io questa la uso principalmente alla sera con la detergenza schiumosa ed è leggermente, vedete che ci sono dei piccoli pallini leggermente scrabbante anzi, non bisogna andare troppo pesantemente con la mano perché effettivamente fa un'esfoliazione abbastanza vigorosa ecco, diciamo così, abbastanza vigorosa a me ha aiutato tantissimo questa spugna perché pur essendo morbida vedete questa sta quasi asciugando pur essendo morbida è molto compatta sembra quasi lattiginosa come se c'è una specie di gomma piuma insieme della gelatina mi piace un sacco e l'ho utilizzata soprattutto avevo due imperfezioni qua vicino all'occhio due granelli di miglio e con l'acido salicilico e con l'aggiunta di un'esfoliazione quotidiana con questo si stanno veramente riducendo anzi, uno è andato via e l'altro si è rimpicciolito tantissimo quindi mi piace veramente tanta io ho preso questa che è quella naturale ma ho visto che ci sono anche in vendita delle spugne konjac konjac, non so come si dica bene addizionate ad attivi che hanno una certa particolarità per esempio ce n'è nera che ha il carbone oppure me le sono segnate c'è quella l'argilla rossa che è indicata per le pelli di cui bisogna poi migliorare il tono e ridurre i rossori c'è quella la camomilla che è delicatissima e delicata alle pelli sensibili ognuno di queste spugne ha un colore diverso giallo, rosso, verde, nero poi c'è quella l'argilla vera ce ne sono di tanti tipi dove ogni colore indica l'attivo con il quale viene addizionata insomma io ho preso questa naturale mi piace tantissimo la confezione ho preso questa marca perché aveva delle belle recensioni io francamente non la conosco sono 4 tra l'altro non ci vedo è scritto piccolissimo distribuito da Filen S-A-R-L società responsabilità limitata Francia viene venduta in una confezione così sono 4 ne stiamo utilizzando 2 non so quanto sia il loro tempo per rovinarsi dipende forse anche da quanto tempo le si usa mi ci sto trovando veramente benissimo e nulla questa è una scoperta che ho fatto io non la conoscevo magari qualcuna di voi non la conosce e può esserli utile e questa costa l'ho segnato l'ho segnato sono sicura non l'ho segnato comunque non costava tantissimo panno struccante cuffia doccia guanti sfoglianti spugnante no mi sono dimenticata poi ve lo segno ma sarà stato sui 10-12 euro insomma i miei acquisti su Amazon per singolo pezzo non è che superano di tantissimo queste cose e e nulla tutte le altre cose ve le ho fatte vedere spero che non sia stato troppo noioso sicuramente più corto di quello dell'ultima volta io vi auguro una buona giornata un buon pomeriggio qui c'è un bel sole l'aria fuori è bella calda è ritornata alla primavera oggi mi è arrivato un pacchetto dove ho fatto acquisti questa volta per colpa di Antonella di fare e disfare canale YouTube mia amica mia amica nel senso che ci conosciamo veramente da tantissimo tempo per quello che riguardava il punto croce tanti tanti anni fa una vita fa che ho riscoperto tramite Elisabetta R che la menzionava in un suo video quindi sono andata a vedere ho detto è proprio l'Antonella che conoscevo io ci siamo forse anche incontrati in occasione della presentazione del mio libro ma vabbè se non ricordo male sì a una fiera vabbè e niente comunque grazie a queste due care amiche Elisabetta e l'Antonella io ho fatto un acquisto dei prodotti nuovi della linea di Essence e se vi interessa li guardiamo insieme mi sono arrivati proprio adesso non li ho ancora guardati quindi finisco questo video vi saluto e vado a vedere che cosa mi è arrivato con il corriere grazie per essere arrivati fino a qui se non sono stata troppo noiosa se vi piace quello che condivido perché non sto presentando nulla iscrivetevi al canale e magari lasciatemi un pollicione in su ciao a tutti e a presto un bacione e grazie grazie a tutti grazie a tutti